L'Asle di Teramo nel 2021 tramite la regione Abruzzo partecipò al bando ministeriale per la realizzazione di un progetto regionale sulla sperimentazione di strutture di prossimità. Stiamo parlando del progetto Agicot che a fine ottobre 2022 venne avviato in maniera sperimentale con l'apertura di un'agenzia di coordinamento per la presa in carico dell'anziano fragile nel suo percorso dall'ospedale al territorio. E a distanza di un anno l'Asle di Teramo ha tracciato il bilancio sulla fase sperimentale del progetto che ora visto gli importanti risultati verrà esportato anche nelle altre Asle Abruzzesi. Oggi si conclude nella fase di sperimentazione e parte quella della implementazione globale. Adesso dobbiamo tra l'altro esportare questa esperienza dall'Asle di Teramo alle altre tre aziende sanitarie della regione e quindi proprio per cercare di creare un network il più radicato possibile. L'obiettivo dell'agenzia è quello di unire le richieste sanitarie e sociosanitarie. Grazie a una rete di professionisti il paziente fragile viene preso in carico e accompagnato in un percorso di cura personalizzato. Dalle eventuali dimissioni ospedaliere all'assistenza domiciliare cambiando completamente il paradigma dell'assistenza. Abbiamo incominciato con le aree interne ed è sicuramente una risposta più importante, è un'esigenza più sentita dalle aree interne. In questo primo anno di attività del servizio dell'Asle di Teramo sono stati presi in carico 179 persone. Lo scorso semestre la nostra operatrice ha fatto quasi 9.000 accessi o telefonici o sul campo, quindi c'è una grossa richiesta e come prima si diceva magari tu telefoni perché ti è stato rappresentato un bisogno di una persona anziana e poi nel corso della telefonata o dell'intervista sul posto ne scopri altri 10 di problemi. E proprio in questi giorni si sta aggiungendo alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra alcune associazioni della provincia di Teramo e Asle di Teramo per la messa a disposizione di una serie di servizi per pazienti Agicot per offrire loro una risposta ad ogni specifica necessità.